Comincia la festa, comincia Danirio, sulle mani! Come on! In questo senso, questa notte, spacca, mega DJ! Le mani, le mani, le mani, le mani, le mani! Chiesa per la e sparcata, Danirio! E allora, in questo momento, voglio vedere le mani che portano a tempo di musica! Per la gioia degli amici di Facebook, per gli amici che sono stati con noi a Capodanno, si piaccia più un po'! Mi sapevi servito a Mega DJ, grazie prima! Allora, il gruppo sui che si chiama di zona, è destinato il consone! E lo viva tutti insieme! Come fa, 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 come fa! Come on! Come on! Come on! Come on! Francesca! Nicchia! Ecco il nostro Franceschino con il cartello della Chiavo in Cerni! Torn Никazzi! Quesemmo! Cattolo! Cro qualcosa di spie so schicino con migraio di profession... irsin ok? Metrisaula! Cattolo! Io vediamo! Io vediamo! E' appena, e' appena, e' appena, e' appena